Il conservatorio professionale Manuel Carra di Malaga Il conservatorio di Adria Navarra in Pamplona Cristi conservatori Helsinki Montpellier Sono stato al conservatorio di Anversa in Belgio Napoli Il conservatorio di San Pietro Manchella Il conservatorio di Schule Fumissi con un teatro München Il conservatorio di San Pietro Manchella Con i diversi progetti di orchezza E le varie attività che il conservatorio Aggiungono molto il gruppo di amici Mi sono sentita accolta da tutti i docenti Che sono resi disponibili per fare lezioni Avere un confronto continuo in maniera positiva Grazie anche ai compagni di classe Il programma Erasmus è molto bello per aiutare a molti ucraini, a molti popolini, a continuare a insegnarci ai conservatori europei. È una buona esperienza di stare ad Erasmus, conoscere gente nuova, persone che ti insegnano molte cose nuove. Ci sono persone che ti insegneranno come persone. Ci sono conosciute persone che parlano diverse lingue, che sono di altre culture. È sempre una cosa che ti arricchisce come persona e a livello professionale. Ho visto che possiamo, con l'experienza Erasmus, partecipare ad un orquestro che fa delle sessioni per due anni. E io credo che è stata una opportunità meravigliosa. Per Rafa Uspilla e Saintoni, che mi ha chiesto per te, in scuola. L'Orchestra Erasmus è un progetto che ti permette di scoprire un contesto culturale, un contesto sociale, un contesto storico. La musica è l'unico linguaggio universale. La musica è solo sulla cui principale. Hal fingerna Cottomale. Per loro, a chi lo abbia. Letto uno, a chi lo abbia. La musica è realizz movimento aiuti, Grazie.